Grazie, ringrazio per l'invito e non cerimonialmente per la fiducia che in qualche modo in esso è implicita. Spero di non averla troppo tradita aggiungendo e me ne rammarico perché ero desideroso di ascoltare con ciò che qui si stava dicendo in ritardo. Questo peraltro essendo dovuto a qualche complicazione nel tragitto che va dal casello di Cinisello Balsamo al luogo dove ci troviamo mi consente di presentarmi come una minuscola allegoria della violenza del traffico e quindi in qualche modo almeno figuralmente di risultare inserito nel tema delle nostre conversazioni. Aggiungo che effettivamente ero stato visitato da una qualche esitazione nel scegliere tra le molte tracce possibili per un intervento che si collocasse sotto questo titolo quella che potesse in qualche modo maggiormente interagire con gli interessi di un pubblico che ancora non conoscevo. In parte le cose che ho avuto modo adesso e con molto piacere di sentire mi fanno pensare che ciò che comunque dirò mi colloca non troppo fuori posto nel giro della conversazione di oggi. In particolare notavo come nell'ultima relazione che ho potuto sentire e che ho molto apprezzato non è stata minimamente taciuta la connessione che in qualche modo può risultare tra l'esposizione dell'impianto concettuale di riflessioni che non sono certo di breve periodo e nello stesso tempo la percezione di quanto una congiuntura che stiamo vivendo le solleciti e probabilmente anche le forzi a una sorta di esercizio di autotrasformazione. In realtà credo che sia sempre in qualche modo difficile in occasioni come queste ma anche probabilmente nel nostro lavoro riuscire a tenere assieme due piani che probabilmente solo se non vengono divisi danno un'effettiva serietà alle cose che diciamo e scriviamo. Uno è quello che si colloca all'interno del sistema di regole cangianti sì ma comunque sempre obbliganti dei nostri apparati concettuali delle nostre identità disciplinari. L'altro quello che cerca di interrogare l'oggi in cui queste si riproducono. E spesso nei nostri discorsi si registra una schisi. La nostra batteria di operatori scientifici prosegue con le sue autonomie. La nostra sensibilità per l'oggi parla una coine giornalistica in vario modo stimolata da qualche esigenza di mantenimento alto del tono. credo che questa distinzione, questa separazione vada rotta e che conseguentemente anche i riferimenti a quella che un tempo si chiamava l'attualità e forse in ciò che ha di interessante è una inattualità, nel senso che forse ciò che c'è interessante di oggi è esattamente ciò che non filtra nel modo in cui una narrazione dell'oggi ce lo propone. Ecco, ciò che interessa in attuale attualità è qualcosa che deve passare attraverso una sovversione rigorosa degli occhiali con cui siamo soliti guardare e quindi anche delle regole di discorso che siamo soliti tenere all'interno di quella che è la nostra attività in definitiva. ecco, per quello azzarderò alcune considerazioni non indisciplinate ma non necessariamente contenute nella silhouette specifica di una unica disciplina, tanto meno quella che con convinzione insegno. Aggiungo che almeno in alcuni passaggi, ma credo che questo non sia indesiderato, finirò per ritransitare attraverso alcuni plessi che sono stati evocati con così l'inutinitida efficacia da chi mi ha preceduto. Ma anch'io mi faccio in qualche modo anche precedere da una sorta di exergo che mi è venuto alla mente per la verità mentre stavo giungendo qui. È un passo, quello conclusivo in qualche modo, di un dramma shakespeariano meno noto di altri, almeno in Italia, che si intitola Timone d'Atene e che, per dirla in una battuta, descrive la vicenda di un personaggio che vive una prima parte della sua esistenza eccezionalmente prodigo, ostentatamente ospitale, propenso a fare della sua esistenza e delle sue risorse che non sono, ahimè, infinite, anche se lui non se ne accorce, una sorta di celebrazione della sua soddisfazione di stare nel genere umano. La fortuna gira, si ritrova poverissimo e sviluppa una vigorosa misantropia che alimenta una serie di dialoghi e di monologhi nella seconda parte. A un certo punto il nostro muore, si fa seppellire al di fuori di Atene e in qualche modo dà come suo lascito una lapide nella quale testimonia la cupezza e la radicalità della sua deprecazione del genere umano. In quel momento entra ad Atene Alcibiade, un Alcibiade come possiamo dire un po' socratico platonico, ma tutto sommato fortemente recuperato rispetto alle censure del simposio, ad esempio, il quale dice, io vengo nella città deciso a governarla con l'ulivo e con la spada. in pace e in guerra, contrariamente a Timone non crede a un'umanità divinizzata e olimpica nei suoi banchetti, non crede al ritratto cupissimo che Timone ne ha fatto per la delusione. e soprattutto sa un'altra cosa, sa in qualche modo ispirato da una antica concezione fronetica per così dire o prudenziale del mondo. La fronesi, se sapete, come si diceva un tempo è una virtù kubernetica, è la virtù del timoniere, del timoniere di una nave, il quale sa che le onde vanno dove vogliono e che lui per andare dove vuole andare deve trovare un accordo con le onde perché le onde vogliano per conto loro che lui vada dove vuole andare. E conseguentemente sa in qualche modo che le vicende umane presentano questo movimento osmotico all'interno di una dimensione che forse è armoniosa, forse no, ma è quella che noi sperimentiamo e quella in cui noi misuriamo i nostri successi o insuccessi. Vi sono momenti in cui prevale l'orivo della pace, altri in cui prevale la spada. In questa suggestione shakesperiana premoderna, in qualche modo, figurava la convinzione di lì a poco destinata, almeno nei modelli concettuali di maggior successo, ad essere archiviata dalla presa di potere concettuale dei grandi modelli giusnaturalistici o bessiani, la convinzione che tutto sommato il governo delle persone, della persona, come dei grandi aggregati, è qualcosa che si sviluppa all'interno di uno spazio che non viene radicamente arredato adesso per una nostra decisione fondatrice. Noi ci muoviamo in uno spazio in cui ci sono più cose e muovendoci in quella e governando in quello ne prendiamo atto. E il nostro rapporto con tutto ciò che troviamo, in alcuni casi è di conflitto e di violenza, in altri di alleanza, e probabilmente esiste una misura di saggezza che fa sì che in questo gioco prevalga una certa propensione, contamino qui se volete con una logica alla montagna, per trovare dei modi di vita, dei sistemi, quelli che noi chiamiamo istituzione, che per un qualche tempo, meglio se per diverso tempo, ci consentano di sembrare abbastanza adeguati alle nostre necessità. Ecco, dopodiché però, ed è in parte la situazione di cui noi stiamo vivendo, la dissoluzione presente, si instaura, quella che potremmo chiamare, lo dico così in maniera molto semplice, molto rapida, per non annoiare ancora di più e per non far perdere tempo, si instaura la macchina della scienza politica moderna, quella che è stata appena anche adesso evocata, che è quella in cui sostanzialmente il complesso delle realtà che noi chiamiamo empiriche vengono in qualche modo passate al filtro del grande artificio rappresentativo. Un'operazione che nasce, come è stato ricordato, con la giustificazione di porre fine alle violenze. Qualcosa che, per riprendere il vecchio detto schmittiano, sembra in qualche modo discendere dall'invocazione del grande giurista alberico gentile, silete teologi, immunere alieno. Insomma, basta con le guerre di religione, basta con dei sistemi simbolici, diremmo noi, impazziti, un ordine finalmente. Di tanto in tanto c'è sempre qualcuno che dice basta col casino, in definitiva, adesso mettiamo ordine nelle piazze, a volte nei conti, in altri casi, e in tutti i casi la cosa non è mai indolore, in definitiva. Nell'ordine della modernità noi abbiamo una grande operazione che per eliminare o limitare il rischio della violenza utilizza una potente violenza fondativa. Nel senso che il complesso delle relazioni umane vengono in qualche modo trasformate in relazione di quelli che sono i prodotti di un evento costitutivo nel quale tutti acclamano un sovrano che diventerà il rappresentante di tutti e che disporrà del monopolio della violenza e in virtù di questo diventano, questo è il gadget decisivo, coloro che lo hanno appena acclamato. Perché tutti coloro che acclamano il sovrano sono in qualche modo dei soggetti significativi solo in virtù del sovrano che li rappresenta. Il che in qualche modo significa una cosa, non mi dilungherò perché chi mi ha preceduto ve l'ha già fatto avvertire, il sovrano rappresenta il popolo ma il popolo per essere rappresentato deve fare il favore di non esserci. Deve fare il favore di essere sostituito dalla sua rappresentazione. Il che comporterà che quando il popolo oltre ad essere costituito in virtù del sovrano diventerà il popolo sovrano e si aprirà l'età di cui noi viviamo la fase uccidua, l'età delle grandi costituzioni quelle in cui sostanzialmente il tema politico centrale è il modo in cui il popolo che è sovrano esercita concretamente la sua sovranità noi assisteremo a un processo di crescente inclusione benefico per tanti versi di ogni essere umano in una rete sempre più complessa di diritti e di obbligazioni che sono essenzialmente la Costituzione quella cosa che se detta alla tedesca come Feafassum significa non soltanto una carta costituzionale da diritti e convegni ma in quel processo complessivo per cui esiste l'unità politica di un popolo piuttosto che non esserci. E rispetto a questo processo tutti coloro che vi sono coinvolti devono in qualche modo riconoscere di esistere in virtù di esso per cui come in parte si diceva prima quando qualcuno pensa di opporsi alla rappresentazione politica la cosa che gli viene detta è ma tu sei un effetto della rappresentazione politica tu stai parlando contro se stesso perché l'ordine che è costituito è costituito in virtù della tua volontà. Ora perché come dicevano vecchi amici di tradizione operaista qualcuno potrebbe dire filosofeggia il cane questa cosa da un certo punto di vista va riportata a un altro tipo di considerazioni perché l'individuo costruito attorno all'asse della volontà questo individuo che vuole che vuole sempre e che è sempre imputabile e che non può mai tirarsi fuori dal mondo di forme che ha voluto lui per il semplice fatto di esserci di avere una carta di identità di avere un nome che esiste in virtù dell'apparato che egli si ritiene ha voluto ecco questo individuo non è soltanto un gadget della politica è qualcosa attorno a cui per molti versi si è costruita anche nella vicenda dello sviluppo delle grandi scienze sociali e della stessa filosofia la considerazione di ciò che per il momento lo dirò senza tentare di rigorizzarlo di ciò che è singolo c'è in altri termini un'evidenza antica di cui testimoniano i nostri testi della classicità e che torna in maniera intensa perturbante è geniale in molti momenti della riflessione filosofica contemporanea per cui io sono senz'altro io ma sono anche altre cose e non sono sempre le stesse altre cose per cui in molti casi scopro che io come appare secondo delle formule ormai diventate da manuali in tanta riflessione in tanta letteratura ad esempio di lingua francese io sono un altro il mito di anfitrione per così dire quello che ci presenta il nostro io che ci viene incontro e ci dice guarda che tu non sei niente io sono io tutto ciò che tu pensi di essere è un'altra cosa non sei tu tu sei soltanto il niente di tutto ciò che credevi di essere chi ha presente il mito di anfitrione nella modernità da Moliere a Kleist sa che esattamente questo si tratta a volte lo sapeva riprendere con grande efficacia al cinema ricordo un bellissimo breve e geniale film di Alfred Hitchcock che comunicava questa sensazione con una particolare perizia bene ora che posto ha nella produzione di questo gadget che è l'individuo moderno quello che in qualche modo si è fatto dimenticare di essere tutte queste altre cose anche se continuamente grandi episodi di letteratura di poesia di riflessione morale glielo ricordano e anche se in un certo senso glielo ricorderebbe tutto è un tema che è diventato più recentemente particolarmente intenso nella rilettura di questi ultimi anni di Foucault del Foucault degli ultimi corsi in tutto ciò che fa sì che questa gabbia concettuale che è la gabbia della modernità debba quotidianamente pagare dei prezzi per continuare ad affermarsi il potere che essa produce è sempre in realtà l'esito di una mediazione tra i suoi spigoli le sue linee e la massa vivente su cui si imprime che replica condizionandola costringendola in qualche modo a rideterminarsi assumendo essa stessa elementi di quella forma che ritornano conflittualmente con essa ecco dentro a questa cosa noi troviamo forse non la radice della violenza ma certo una parte poderosa di ciò che sta alla base della fenomenologia della violenza ovvero sia userò impropriamente forse uno spunto beniaminiano di quell'aspetto della gewalt di quell'aspetto della forza che ci si manifesta distruttivamente come violenza che noi temiamo perché è esattamente qualcosa che come una sorta di un Heimlich che è fluidifroidiano parte dalla radice del nostro ordine e si muove catastroficamente contro di esso ma che non possiamo mai negare del tutto perché la sentiamo presente all'altezza del nostro fondamento ancora un istante uno chiudo con un pensiero che era quello con cui pensavo di cominciare ma con cui mi sembra meglio a questo punto chiudere mi venivano alla mente venendo qui due immagini dislocate del tempo negli ultimi anni a breve distanza uno la grande rivolta delle banlie uno la recente rivolta a Londra delle popolazioni giovanili hanno entrambe una caratteristica che mi aveva particolarmente colpito e inquietato sono due situazioni nella quale l'elemento secondo me più decisivo e caratteristico è il rifiuto dell'affidamento del comportamento dei rivoltosi a qualsiasi parola che possa pensare di rappresentarli il corpo soltanto il corpo meglio se nel suo disordine il corpo soltanto il corpo è il caso in particolare delle devastazioni dei negozi londinesi con le stimmati della violenza io credo di poter dire subita nella forma di una coazione vero disciplinamento al godimento coatto e continuo una vera grande pedagogia sociale che si pone come suo vero nucleo la costrizione a non porsi nessuna costrizione nessuna dilazione nessun itinerario simbolico ad essere sempre e soltanto col ciuccio in bocca di un godimento perverso che impedisca di consistere da qui si potrebbe cominciare ma se per caso si discute se ne potrà recuperare qualcosa grazie